Nella notte tra venerdì e sabato la polizia di Biel ha arrestato sette giovani, colti nella fragranza del reato di rissa aggravata, perpretata fuori da un esercizio commerciale del centro cittadino. Durante una normale attività di controllo del territorio, gli agenti della squadra volante sono stati attirati da una donna che richiedeva il loro intervento per sedare una violente lite in corso tra diversi giovani. Gli operatori, immediatamente intervenuti, hanno intercettato un gruppo di giovani nell'atto di colpirsi reciprocamente con calci e pugni fuori da un esercizio commerciale. Si è provveduto dunque ad identificare i soggetti coinvolti. Quattro giovani, di età compresa tra i 26 e i 30 anni, tutti residenti nel Biellese, i quali, una volta separati e riportati alla calma, sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura, per meglio comprendere la dinamica dei fatti. Qui, gli operatori hanno notato sul volto e sul corpo dei giovani diverse echimosi, rossori e segni presumibilmente riconducibili all'accaduto. Tuttavia, per meglio comprendere le ragioni della lite, uno degli equipaggi si è nuovamente recato presso l'esercizio commerciale per verificare la presenza di eventuali telecamere o testimoni. E durante questa attività, l'equipaggio della volante ha notato un altro gruppo di tre giovani, extracomunitari tutti residenti nel Biellese, rispettivamente di 25 e 26 anni che improvvisamente hanno iniziato a colpirsi tra loro con spinte, pugni e calci. Gli agenti immediatamente si sono interposti tra i due.